... sull'Empoli, il tecnico Rosso Nero rappensa alla prossima sfida di campionato, quella contro lì, il 13 settembre. I due derby per i campionati li abbiamo vinti, ma sono quelli che non vogliono. Dobbiamo vincere questa prima, se dovessimo vincere sicuramente sarebbe una bella inizia di fiducia e dobbiamo cercare in tutti i costi di farlo e sono sicuro che...